L'ASP di Cosenza ha le prese con all'incirca 200 fra medici e personale in servizio che non hanno ancora fatto pervenire il certificato di avvenuta vaccinazione, nonostante sia stata inviata loro la comunicazione di provvedere al più presto. Solo una parte ha risposto inviando agli uffici dell'azienda sanitaria provinciale quanto richiesto. Da domani, così come prevedono le disposizioni in materia, si procederà alla sospensione dei medici che non rispettano questi requisiti. Una sospensione tecnica e non di tipo deontologico, una presa d'atto per cui non potranno materialmente svolgere la professione, secondo quanto trapellerebbe, fra i professionisti comparirebbero medici di base e qualche pediatra.